Ehi tu, non ti avevo visto, ma lo sapevi che i gtf questa settimana faranno un'altra golden week? I migliori gameplay alle 13 e alle 18, mi raccomando non mancare Che intro del cazzo Ben ritrovati nella top 5 del gtf clan, una top composta dalle clip del gtf clan Iniziamo subito, alla quinta posizione abbiamo una clip di pub che ci fa una quad feed su nuketown con il remington in postazione Davvero molto molto carina e prende anche il v7f e tutto quanto Alla quarta posizione abbiamo gtf rysits che sta ovviamente giocando su advanced warfare Ci fa una splendida 5 men on screen con il ball I nemici erano un po' leggermente nicoglioniti E ci fa una bellissima 5 men Purtroppo muore subito dopo Alla terza posizione incredibilmente abbiamo il gtf satanic Che sta giocando su mv3 in dominio veterano terminal E ci fa una 5 men on screen con l'mp9 Clip molto molto carina per lui Alla seconda posizione abbiamo gtf silver che sta giocando su black ops 2 in dominio veterano su slams Con il c4 ne ha preso già uno Entra, va verso lo spawn, ne prende un altro Entra verso la bandiera, mira lo spawn e ci fa Ne prende prima uno, anzi due e poi Tripla one shot con l'm27 e successivamente ne va a prendere ancora un altro Alla prima posizione troviamo quel bot di dominio che sta giocando in deathmatch a squadra su standoff E ci fa una 6 man feed come direbbe lui Con il ballista davvero molto molto bella E a concludere qui prendendo l'ultimo nemico con un bel quickscope Bellissima clip Spero che questa top vi sia piaciuta Se è così lasciate un bel mi piace Commentate, iscrivetevi soprattutto al canale del clan E passate in descrizione al canale dei membri Un saluto omico Bella raga Non ti piace il GTF Non ti ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi bastare